Allora, l'orologio, allora io ne approfitto intanto, ne approfittiamo intanto per creare un po' d'atmosfera Belli sti braccialetti, chi ve li ha dati? Belli? Oh, devi stare calmo, non abbiamo ancora cominciato! Ragazzi, a tenerli a barra questi da gennaio, che ci scanniamo come... Oh, ci siamo! Allora, vi chiedo un'ultima volta tutti quelli che sono da metà piazza in poi, di fare 10-15 passi verso ovest, verso quella parte là è molto importante per garantire l'afflusso di altre persone poi, toccandosi cosa non si può dire, vi do un'informazione di sicurezza qualora succedesse qualche cosa per cui l'uscita della piazza si bloccasse c'è una zona dietro i gonfiabili dove si può andare e rimanere al sicuro questa è un'informazione di sicurezza, non succederà assolutamente niente qualora succedesse qualcosa lì, laggiù tana libero me e si sta tranquilli poi c'è il mare, fiamolo lì, tuttavia si fa un tuffo allora, mi dai il loro ufficiale? non mi sta cacando nessuno 22-59 22-59 ci sei Luca? ci sei Giulio? ci siete anche voi? sì un attimo solo che verifichiamo questa cosa non si sente perché fondamentalmente dobbiamo fare così bene, sì signore e signori buonasera benvenuti a 80 Evolution su, 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 su allora ci siamo finalmente, finalmente 80 Evolution 2014 la prima cosa il nostro più grande sponsor di quest'anno l'EMPA ente nazionale protezioni animali quest'anno noi ci mettiamo il muso perché abbiamo deciso che i nostri amici a quattro zampe spesso si meritano un po' di più di quelli a due zampe e quindi abbiamo deciso di aiutarli e di dare una mano che cosa sarà stasera? sarà una serata da ballo improntata sulla musica degli anni 80 ma che te lo dico a fa' se chiamo 80 la cosa bella di 80 è che si rivedono a ballare persone con le quali ballavamo 40 anni fa la cosa brutta di 80 se c'era qualcuno che vi stava sulle palle allora con questa festa una volta all'anno ve lo trovate davanti allora è tutto pronto sia la base per noi che abbiamo superato gli ANTA ma ci sentiamo sempre molto giovani 80 Evolution comincia con Daniele DJ Stella e adesso si ghiando mani in alto piazzale dell'alto non ci sentiamo sempre la base non ci sentiamo sempre E' il momento di cantare! Insieme! E' il tempo di cantare! E' il tempo di cantare! E' il tempo di cantare! Oh, potete abbracciarmi! E' il d'anno 80, sono brillante! E' il tempo di cantare! E' il tempo di cantare! Buonasera, buonasera, buonasera Buonasera, buonasera Buonasera, buonasera Buonasera, buonasera Buonasera, buonasera Daniele, Alatrone, Stella! Cosa non si farete per un applauso? E adesso... Are you ready? Calma mia! Tieni tempo. questa è la musica del dj stella di scolandia questi non sono i dear jack no 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 mi dispiace sulle mani sulle mani su